Ben ritrovati su Reviewing You, oggi vado a recensire un orologio al quarzo nero elegante marcato Alps. L'orologio arriva all'interno di questa scatola di cartone di un arancione sgargiante, andiamo a aprirlo insieme. All'interno della confezione troviamo l'orologio adagiato su un cuscinetto di stoffa morbida, il libretto di istruzioni di lingua inglese con i contatti dell'azienda e una corticella con scritto Love. Abbiamo un orologio al quarzo, ovvero un orologio con scansione temporale controllata attraverso l'ausilio di una batteria che indica in corrispondenza del quadrante ore, minuti, secondi e giorni del mese. Sul lato destro della cassa è presente una corona che con uno scatto verso l'esterno permette di impostare la data, mentre con due scatti verso l'esterno di impostare l'ora. Per quanto riguarda le dimensioni abbiamo 4 cm di diametro della cassa, 1 cm di spessore, abbiamo una lunghezza del bracciale di circa 20 cm con maglie della larghezza di 2 cm e infine un peso veramente leggero che si aggira attorno ai 109 grammi. In termini di materiale abbiamo un fondello, è una cassa in acciaio inox, sul fondello potete vedere che è inciso il nome dell'azienda, è la scritta Style & Steel, abbiamo poi una corona nera con la presenza di zigrinature, abbiamo una tecnologia waterproof fino a 90 feet, 30 metri circa di profondità, che consente l'esposizione dell'orologio agli schizzi d'acqua all'uso in doccia o in piscina. Abbiamo poi un quadrante che vede uno sfondo nero nel complesso, la presenza in stampatello argento e rilievo dell'azienda, il nome dell'azienda Alps, la scritta bianca al di sotto disegnata con scritto appunto Quartz, una sfera alfa dei minuti e delle ore color argento e una sfera a bastone dei secondi, sempre color argento. Abbiamo poi degli indici rappresentati da lineate e rilievo color argento a tutte le ore e poi abbiamo un datario con sfondo bianco e una cornice color argento. Infine, sempre per quanto riguarda il quadrante abbiamo un vetro Hardlex completamente piatto. Abbiamo un bracciale in acciaio inox nero, completamente nero con chiusura a deployant classica, potete vedere la scritta dell'azienda in grigio, eccola qua, si apre, sul retro notiamo inoltre la scritta Stein and Steel. Da notare le tre fasce che percorrono il bracciale, quella centrale e le due laterali. Nel complesso trovo che sia un orologio elegante, semplice e davvero leggero, inoltre devo dire che la regolazione del bracciale è intuitiva andando semplicemente a togliere le maglie.